Hai una nuvola di punti? Hai un file di testo con una serie di punti che hai misurato, qualcuno ha misurato per te, con uno strumento topografico all'interno della stessa area coperta dalla nuvola di punti e vuoi confrontarli tra di loro per capire come si comportano, come si relazionano specificatamente, in questo video ti parlo di questo, per la componente altimetrica per la Z. Quando mi capita di fare dei rilievi in aree più o meno vaste, che siano fotogrammetrici compresi da drone, che siano LiDAR con LiDAR montato su drone o che siano anche laser scanner, prendo una serie di punti, batto una serie di punti in campo extra che non sono i target dell'elaborazione structure from motion, non sono i ground control point ma neppure i target di un controllo fatto su un dato LiDAR, Sono degli altri punti che sono su delle superfici tendenzialmente abbastanza solide, abbastanza dure, tipo una strada o un piazzale, quindi non vado su un manto erboso dove è anche poi difficile capire qual è il punto che ho battuto se lo dovevo andare a ricercare nella nuvola di punti, quindi mi batto una serie di punti extra e li utilizzo per capire quanto è buono il rilievo tridimensionale che sto producendo, che sto poi esportando o su cui sto lavorando. Te lo faccio vedere in Cloud Compare con una serie di passaggi, in realtà è abbastanza breve la cosa, ma prima ti faccio vedere i dati che voglio trattare, prima di farti vedere, cioè i dati che voglio trattare, uno è la nuvola di punti e la porto dentro Cloud Compare, l'altro è un file di testo che fondamentalmente è fatto da una serie di punti battuti con un'antenna GNSS che si compone di una colonna che identifica il nome, coordinata S, coordinata Nord e quota. Detto questo, prendo la nuvola di punti che ho in un altro video, schermo, scusa, non in un altro video, e la porto dentro Cloud Compare. Premessa, questa nuvola di punti è una nuvola di punti già trattata, ossia ho già fatto l'estrazione dei punti del terreno, infatti questa è un'area di versante dove ci sono un paio di strade su vari livelli, abbastanza vegetata, è una nuvola di punti che deriva da un'acquisizione LIDAR, ho estratto i punti del terreno, lavoro su questa perché è più leggera e poi perché forse è anche più senso lavorare su questa nuvola, visto che i dati che adesso porto dentro, quelli che ti ho fatto vedere nel file di testo poco fa, sono punti del terreno che ho battuto portando in giro l'antenna e mettendo la palina su punti effettivamente calpestabili. Prendo i punti, li porto dentro Cloud Compare, lui mi dice dimmi a che cosa corrispondono le colonne di questo file di testo che sto leggendo. In Cloud Compare porto un file di testo txt, allora gli dico che la prima colonna è l'etichetta, poi c'è il dato della scissa, scusa, la est, la nord e la coordinata z. Gli dico apply all, yes to all ed ecco che loro si vanno a distribuire, meno male che si vanno a distribuire in questa zona, in queste zone che sono proprio i punti dove ho camminato quell'antenna GNSS e ho battuto ad una distanza più o meno costante, ma me la sono data io come passo 5 passi dei miei, 10 passi dei miei, credo 5-10, comunque a un intervallo più o meno costante lungo le strade dove era significativo avere dei dati extra. Avendo portato dentro un file txt, Cloud Compare me lo legge, me lo importa e me lo tratta come una nuvola di punti. Se ci fai caso questa icona è l'icona della nuvola di punti, stessa icona che ha l'elemento terreno che abbiamo portato dentro, che ho portato dentro in prima battuta. Allora, per vedere quanto si discostano lungo la coordinata z, utilizzo lo strumento che mi permette di fare un confronto cloud to cloud, o meglio il calcolo della distanza cloud to cloud. Perché lavoriamo sulla z? Perché in questo caso non sto indagando delle coordinate di target ben visibili a terra, sto facendo un'analisi di punti presi lungo la superficie dove è significativo individuare lo scostamento lungo la z perché difficilmente avrei una certezza nell'individuare la posizione precisa del punto sulla x e sulla y perché non l'ho definenziato a terra, quindi non riesco a vederlo nella nuvola di punti. Diverso sarebbe stato se questi punti fossero stati punti con coordinate di target, dove allora sì anche la coordinata, la componente planimetrica ha una grande valenza. Seleziono le due nuvole di punti, utilizzo questo comando che ha questa icona che si intitola compute cloud to cloud distance. Lo clicco e lui mi dice, ok, devi scegliere i ruoli, choose role. Quale delle due nuvole di punti vuoi che sia il riferimento? Quale delle due nuvole di punti vuoi che sia il terreno? La nuvola da comparare, da confrontare. Ora potrebbe essere controintuitiva la scelta che faccio io, però in realtà mi serve per vedere meglio i risultati dopo e anche perché delle due nuvole di punti, una è evidentemente molto meno numerosa e mi riferisco ai punti che si chiamano punti strada, l'altra è molto più numerosa. Quindi utilizzo come nuvola di riferimento la nuvola di punti più numerosa perché voglio vedere sui punti isolati quant'è lo scarto in termini di distanza tra quei punti che appartengono a loro volta ad una nuvola e la nuvola di punti principale. Quindi ho cliccato sul tasto swap e come vedi la nuvola di punti terreno mi si colora di giallo e la nuvola di punti, punti strada mi si colora in rosso anche se non la vediamo perché ci sono le etichette, gli do ok. Lui mi propone alcuni parametri, una finestra che si chiama distance computation che mi dice fondamentalmente se voglio modificare alcuni parametri tra cui quello della creazione del modello locale non lo faccio in questo video ma perché non ha una grande valenza anche perché sto lavorando in termini di presenza dei punti battuti a terra su superfici abbastanza pianeggianti, sono strade. Quindi non devo fare dei modelli locali a tutto sommato complessi quindi lascio come local model nessuno, none. General parameters, l'unica cosa che faccio lasciando invariato tutto quanto è quella di mettere la spunta su split x, y, n, z components cioè oltre a calcolarmi la distanza complessiva nella tridimensionalità tra i punti e i punti della nuvola calcolami anche le tre componenti x, y e z gli dico compute, lui fa prestissimo perché i punti di riferimento sono molto pochi e per vedere il risultato graficamente faccio questa cosa intanto spengo tutte le etichette che corrispondono all'id dei punti che ho importato spengo la nuvola del terreno ed ecco che vedo, non so se li vedi anche tu ma forse se ingrandisco la dimensione dei punti dovresti riuscire a vederli ed ecco che vedo i punti che ho importato rilevati con un'antenna GNSS colorati con delle determinate cromie il colore di questi punti sta a individuare, mi sta a significare la distanza e qua siamo ancora in termini di distanza tridimensionale di quei punti dalla nuvola allora seleziono punti strada come vedi la colorazione è passata ad essere colorazione scalar field perché è stato creato un campo scalare in realtà ne sono stati creati quattro perché ho messo la spunta sullo splitting del calcolo della distanza sulle tre componenti x, y e z vado giù ed ecco che in scalar field count for, ci sono quattro campi scalari di cui il campo scalare attivo è c2c, sta per cloud to cloud, absolute distance cioè distanza assoluta ma se vado su questo menu a tendina vedo che oltre al cloud to cloud absolute distance c'è anche il cloud to cloud absolute distance continua a chiamarsi absolute distance ma tra parentesi c'è un'indicazione x, y e z se clicco su quello che interessa a me per controllare nello specifico di questo video ossia cloud to cloud absolute distance non so se ci hai fatto caso i colori sono leggermente cambiati perché prima avevo un colore relazionato alla distanza assoluta adesso ho un colore relazionato alla distanza lungo la componente z e in più posso mettere la spunta su visible e mi compare una leggenda che mi aiuta a capire da un punto di vista della colorazione quali sono i valori, le distanze, gli scarti se vogliamo anche se non si parla tanto di scarti perché non stiamo facendo delle analisi statistiche le distanze verticali di questi punti rispetto alla nuvola sottostante vedo che tutto sommato va abbastanza bene come distribuzione media siamo in un range che va tra 4 e 8 cm ci sono alcuni punti che scartano un po' di più non è detto che le cose vadano sempre bene so anche il motivo per cui questi punti scartano di più perché qui il GNSS aveva grossi problemi di connessione dati e quindi l'RTK perché ho lavorato in NRTK ha funzionato sì e no e proprio queste sono le zone in cui ho avuto qualche difficoltà in più ma ora riesco a vedere quali sono gli scostamenti da un punto di vista dei colori dei punti rispetto alla nuvola posso andare avanti, posso fare qualcosa di più cioè posso anche indagare la cosa da un punto di vista statistico prima di indagare la cosa da un punto di vista statistico al di là del fatto che io vedo i colori potrei anche essere interessato a capire localmente quanto è lo scarto e quindi utilizzo lo strumento di point picking con il campo scalare attivo e vedo che in questo punto la distanza lungo la Z è di 10 cm perché lo leggo nel primo campo di questa etichetta che compare quando chiedo al software di farmi vedere le coordinate cloud to cloud absolute distance uguale a 0,10 se vado su questo punto la distanza cala se vado su questo punto forse risaliamo un po' 0,04 posso indagarli localmente fatto questo posso anche darci un'occhiata da un punto di vista statistico quando i numeri cominciano ad essere tanti ora per tanti è un avverbio comunque tanti è una parola che non è molto definita anzi non lo è per niente più sono meglio è diciamo che una cinquantina di punti mi permette di fare già una sorta di analisi pseudo statistica degli scostamenti lungo la Z tra i punti rilevati con l'antena e i punti della strada più sono meglio è quando i punti cominciano ad essere un numero abbastanza considerevole ecco non facciamolo con 3-5 punti perché non ha molto senso si possono guardare anche le statistiche di questa cosa che aiuta un po' ad avere l'idea dell'andamento di questa distribuzione di variabili casuali di fatto questa è trattata come una distribuzione di variabili casuali allora vado in tools no vado in edit scalar field con il campo scalare attivo che è quello della cloud to cloud Z distance absolute distances lungo la Z vado qui su questa opzione che mi dice compute statistical parameters e lui mi dice ok di questi dati utilizzando i valori delle differenze della quota tra i punti e la nuvola io ti posso fare due distribuzioni una distribuzione di Gauss una distribuzione di Weibull trattandosi di un'analisi di variabili casuali la distribuzione di Gauss tutto sommato è forse quella più indicata poi io non entro tanto nel merito della statistica anche perché non è che che la mastichi molto però la distribuzione di Gauss è quella che mi permette di capire come si distribuiscono i parametri di una variabile casuale proprio tipica dell'ambito della misura il grafico che mi si propone è il classico histogramma della distribuzione della variabile dove oltre alla distribuzione dei dati quindi qua ci sono i valori e qua ci sono lungo la X ci sono i valori della distanza lungo la Z e lungo la Y ci sono il numero di elementi che si associano a quel range di valore o anche un andamento grafico e mi ritorna molto bene il fatto che sia una sorta di curva di Gauss sorta di curva di Gauss è una distribuzione di Gauss e questa è una curva di Gauss comunque una distribuzione a campana dove il valore medio è di 0,07 quindi il valore medio delle differenze di quota tra i miei punti la nulla di punti è 0,07 la deviazione standard è 0,06 e sono state individuate 7 classi questa cosa qua io la posso anche esportare come CSV se voglio oppure come immagine quindi farò un'esportazione di questo per fare eventualmente delle altre analisi soprattutto col file CSV in altri software che mi permettono di trattare questi dati nel modo in cui preferisco quindi uscendo dall'ambito di Cloud Compare in questo modo siamo riusciti a capire qual è lo scarto sia locale tra un punto misurato con uno strumento topografico e una nuvola di punti ma sia uno scarto distribuito su un certo numero di punti che sono tutti i numeri che ho rilevato in campo relativamente alla nuvola di punti per capire quanto è solido il dato che sto producendo in output uno rispetto all'altro o l'altro rispetto al precedente io lo uso tanto ti ripeto non si tratta di lavorare con dei target perché stiamo lavorando soltanto sulla componente Z spero che possa esserti utile per i tuoi rilievi per indagarli ancora un po' di più nel momento in cui devi produrre un output e quindi vuoi essere sicura o sicuro di quello che stai producendo grazie per aver visto questo video ti do l'appuntamento prossimo ti saluto fortissimo ciao ciao ciao